E' bella a tutti ragazzi sono Frexend e ben ritornati nel canale Oggi volevo parlare un po' con voi per una cosa che volevo dirvi Nel mio canale sarò un po' assente per almeno 2-3 giorni Quindi per questi 2-3 giorni non ci sarò su youtube E quindi vuol dire che per questi 3 giorni non ci saranno video Non ci saranno più i miei video, così 3 giorni Ma le tornerò, però questa cosa è a causa del pubblico Che vuol dire che non so che cosa portare sul canale Quindi ci voglio prendere un po' con per sé Pensarci che si possono mandare in un video Quindi dico C'è una buona idea che un po' mi metto a riflettere Un po' riflettere sui video Che devo fare Quindi così posso garantirvi Posso garantirvi che i video saranno di tutte le specie di giochi Che ora sto ancora riflettendo su quale gioco dovrei giocare Quindi sarò un pochino assente in questi 3 giorni 2-3 giorni Forse sarò assente Però non ho ancora detto Ma se voi pensate che cosa Che 2 secondi fa detto Oh si però se riuscirò a trovare A prestare con la nostra forza Perché non ci posso portare sul canale Prima di questi 3 giorni E vi tornerò più prima Mi pensavo di Pensarci in sua E quindi Dico che Che Comunque grazie mille per Tutto con le visualizzazioni Per i commenti per il mio ultimo video Mi abbiamo un video rilasciato Mi hanno un po' di tempo Mi hanno un po' di tempo Scusate che non parlavo perché mi stavo concentrando E quindi 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 comunque grazie per la visione E ci vediamo con un caloroso video Un caloroso abbraccio E un video Un video Quindi ragazzi Ci vediamo tra poco Comunque solo per Questa piccolissima cassa No niente Vabbè comunque ragazzi ci vediamo dopo Ciao ciao